Nessuno dovrà usare sconfiggere Karat, questo è un compito che aspetta soltanto a me, chiaro? Numero 20, ti chiedo il permesso di eliminare Vegeta, dammi il tuo consenso. E va bene, sì puoi distruggerlo, ma gli altri quattro li devi lasciare a me, intesi? Cominciate a combattere! Via! Grazie! 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 Giuro che non pagherà! Giuro che non pagherà! Basta con le chiacchiere, sono stufo! Prendi questo! Nel Basta con chiacchiere! Grazie a tutti! 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 Dove credevi di andare, moscerino? Con i tuoi poteri non puoi fare nulla contro di me! Cominciate a combattere! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Oh, ma... Sei morto, stronzo! Oh, adesso ti faccio vedere io! Sei morto, stronzo! Oh, ma... Oh, ma... Oh, ma... Oh, ma... Oh, ma...